Allora, prima di tutto un saluto a tutti i motocilisti perché come sappiamo tutti i motocilisti siamo grulli, giusto? Allora ho proposto alla Cinzia, sempre grande motocilista femminile, di fare una camminatina. In pratica Cinzia da quant'è che camminiamo? Lo so, guarda, io non ho idea, forse saranno tre o quattro ore. Veniteci a prendere, non ne possiamo più, abbiamo anche sete. Acqua, ma dove siamo? Comunque, anche se siamo sperduti e nessuno ci viene a prendere, mi raccomando, sempre gas a manetta, non fate come noi, mandate in moto. Ciao! 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 Ciao!